Passa al demanio comunale l'ex convento delle Cappuccinelle, già carcere minorile filangeri in salita a Ponte Corvo. Il trasferimento è autorizzato dallo Stato a seguito di un progetto di valorizzazione del complesso, predisposto dal Comune in concerto con la soprintendenza ai beni culturali, per fare di quell'area un quartiere dell'arte. Su proposta dell'assessore all'urbanistica Carmine Piscopo, la Giunta Comunale ha approvato con una delibera i lavori di restauro per un importo di 210.000 euro dei due torrini collocati all'ingresso del pontile di accesso al Castel dell'Ovo. L'intervento, che durerà sei mesi, si è reso necessario dopo il crollo di alcuni calcinacci che aveva costretto il Comune a realizzare delle opere provvisorie di protezione. Con uno stanziamento di 428.000 euro, la Giunta Comunale approva il completamento dei lavori di restauro del museo dedicato a Totò nel Palazzo dello Spagnolo in Via Vergini. Gli interventi interesseranno il piano terra ed i locali espositivi dislocati al terzo e quarto piano dell'edificio. Saranno inoltre eseguite opere di consolidamento della struttura, il rifacimento della scala di collegamento tra i piani e l'installazione dell'ascensore.